Matteo che effetto fa indossare questa maglia? Onore, mi spiace il fatto che i ragazzi se le debbano pagare e comprare loro perché lo Stato non ha abbastanza soldi per il cambio di divisa, quindi questo è tragico però onore perché chi ci difende va difeso e piacerebbe essere al posto d'Alfano almeno per qualche settimana per ribaltare assolutamente la situazione.